Il discorso parte dalla chiave lavoro, il lavoro che manca, il lavoro in crisi che questa pandemia ha ulteriormente accentuato, dove servono risposte importanti da una politica che noi riteniamo abbastanza immobilista sia a livello di governo centrale sia a livello di regione Abruzzo. I sindacati CGL, CISL ed UIL scendono in campo per il lavoro. In vista della mobilitazione nazionale del 18 settembre, questa mattina a Pescara i segretari regionali hanno spiegato i motivi dello sciopero denunciando l'immobilità della politica e i problemi delle famiglie abruzzesi sempre più in difficoltà. Dobbiamo stare molto attenti soprattutto in questa regione. È vero che i dati dell'Istat qualche giorno fa ci hanno rassicurato sul fatto che abbiamo perso molto molto di meno di altre regioni d'Italia sotto l'aspetto occupazionale. Però dobbiamo dire che siamo in una fase dove ancora due strumenti di ammortizzatori sociali reggono, uno è il fermo del blocco dei licenziamenti e l'altro è gli ammortizzatori sociali sul Covid che continuano a tamponare questa situazione. La domanda che noi ci poniamo e che vorremmo porre e discutere con il governo nazionale e quello regionale è cosa accade quando questi due strumenti non ci sono più. E poi ci sono tutte le questioni che riguardano i temi sociali. Il 24 sarà la riapertura delle scuole e mancano 2.500 unità nelle scuole in Abruzzo tra insegnanti, personale ATA e personale tecnico. Consideriamo che quasi la metà del personale ATA sono precari. C'è tutta la partita che riguarda il rinnovo dei contratti, il contratto degli alimentaristi, il contratto della sanità privata che non viene rinnovato pensate da 14 anni nonostante non ci sembra che ci si trovi in un settore in crisi. Le liste di attesa nella sanità che sono aumentate a dismisura e sui quali vediamo una regione immobili che nonostante due piani per l'abbattimento delle liste di attesa non riusciamo ancora a vedere risultati apprezzabili, anzi quindi rimettere al centro il lavoro e la condizione delle persone.